3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Su Yo-Yo stai per scoprire il segreto della felicità insieme a Yo-Jo. Arrivano i Piplings e Weibaloo. Nenuco fa freddo. C'è la tua Nenuco inverno, cola in nasino. E' raffreddata. Soffia nel nasino con i suoi pazzoletti e mettile il cappottino. Che carina! Con Nenuco inverno, la migliore mamma sei tu. Il cavallino di Nenuco! Con la mia Nenuco era un gran divertimento. Ha dei bei capelli. Con il passeggino oggi facciamo un bel giretto. E' ora della merenda. E sull'altalena, che gran felicità. Con Nenuco, la migliore mamma sei tu. Scooby-Doo, il fortino dei pirati. Le nuove avventure sono piratose. Esplora il fortino abbandonato e inizia l'avventura. Scala la torretta di avvistamento. Ma attenzione, le trappole sono avunque. Il tesoro di Barbarossa. Defendilo. Arma il cannone e tieni a fada i nemici. Scooby-Doo, il fortino dei pirati. Solo da giochi preziosi. Scooby-Doo è il galeone fantasma. Guida la palla di cannone tra ostacoli impossibili. Raggiungi la cima e liberi il camione. Ha il vinto. Scooby-Doo, il camione fantasma. Hello. Arriva il camioncino banco da lavoro di Manny. Con i quattro simpatici attrezzi per riparare qualunque cosa. Smonta e aggiusta con il camioncino banco da lavoro di Manny. E poi parti per un'altra avventura con la motocicletta di Manny. Da Fisher-Price. E poi parti per un'altra avventura con la motocicletta di Manny.